Nell'ambito del progetto IMIDEM, il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale si è occupato dell'identificazione della popolazione migrante con demenza attraverso l'uso dei sistemi informativi sanitari. Abbiamo utilizzato un algoritmo validato e utilizzando queste fonti di dati è stata identificata una popolazione di migranti di 50 e più anni su cui abbiamo fatto una serie di analisi per valutarne lo stato di salute, l'accesso ai servizi in termini di ospedalizzazioni, di ricorso al pronto soccorso, di uso di farmaci e confrontarla con la popolazione nativa, quindi con la popolazione italiana per nascita. Questo approccio all'analisi dello stato di salute della popolazione migrante è abbastanza nuovo, non ci sono molti dati in letteratura. Abbiamo tentato una stima di prevalenza, sapendo ovviamente con i limiti imposti dall'uso dei sistemi informativi che può trattarsi di una sottostima, ma abbiamo comunque identificato questa popolazione che può essere non solo caratterizzata dal punto di vista dello stato di salute e delle caratteristiche sociodemografiche, ma anche seguita nel tempo. Parliamo di popolazione migrante residente, quindi quei migranti che entrano in contatto con l'assistenza sanitaria per qualche motivo nel corso della loro vita e queste tracce possono essere quindi seguite nel tempo e in studi di follow up. Da questo punto di vista il valore aggiunto di questa prima analisi su questa popolazione ci ha consentito di comprendere come potrebbe essere utilizzato anche, piuttosto che uno studio trasversale con i sistemi informativi, ma la costruzione di una corte di residenti che potrebbe essere eseguita nel tempo e valutare appunto i cambiamenti nel corso del tempo dello stato di salute, ma anche dell'utilizzo dei servizi sanitari, quindi anche mettere a fuoco quali sono le necessità e i bisogni di salute di queste popolazioni e mettere a punto degli interventi specifici per supportare questa popolazione che sta diventando sempre più numerose nelle aree metropolitane, in particolare a Roma.